Musica Ben trovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari e Radio Bari in studio Silvia De Sandi. Emergenza sfratti, più di 2000 famiglie a rischio a Bari per il decreto 1000 proroghe. Oggi un incontro urgente a Palazzo di Città. Entro un mese arriveranno importanti novità all'Agenzia delle Locazioni e un fondo di garanzia. Silvia Di Pinto 2000 famiglie a Bari sono sotto sfratto per finita locazione. Stando al decreto 1000 proroghe non potranno usufruire di alcun rinvio. Un centinaio sono già fuori casa con i nuclei familiari divisi ospitati da parenti e amici. Almeno un altro migliaio rischiano lo sfratto per morosità incolpevole. Numeri d'allarme rosso, cifre che raccontano un'emergenza sempre più assillante. Per organizzare una risposta immediata e strutturata, l'assessore al patrimonio Vincenzo Brandi ha oggi incontrato i sindacati dell'inquilini e le associazioni dei proprietari di casa che tornano a dialogare dopo anni di silenzio. Secondo, con fedilizia, sono 7.000 le case vuote e sfitte che potrebbero tornare sul mercato ad alcune garanzie. Entro un mese sarà messo nero su bianco una proposta di accordo. Intanto, la nascita finalmente dell'Agenzia della Casa sul modello di Bologna è dunque dell'Agenzia delle Locazioni per fissare canoni calmierati. Il Comune poi è pronto a istituire un fondo di garanzia su contratti concordati, 3 anni più 2. All'interno della struttura di Agenzia per la Casa vi è la possibilità di creare un fondo di garanzia a favore dei proprietari che si sentano più tutelati nel dare in locazione i loro alloggi. Palazzo di Città potrebbe poi valutare eventuali sgravi fiscali per proprietari e inquilini. Infine, sono allo studio delle polizze assicurative che garantiscono i proprietari sulle spese legali in caso di sfratto. Entro un mese dunque il tavolo tornerà a giunirsi per dare il via libera all'accordo. Proseguono senza sosta le indagini della squadra mobile della Questura di Bari sull'omicidio di Nicola Lorusso, ucciso ieri a San Girolamo. Le novità nel servizio di Cristina Ferrigni. Ora è di intenso lavoro per gli investigatori della squadra mobile di Bari che stanno cercando di far luce sull'omicidio di Nicola Lorusso, il pregiudicato barese, ucciso ieri mattina a San Girolamo. Un agguato maturato negli ambienti della criminalità organizzata barese, nell'antica faida tra le famiglie Lorusso e Campanale. Le testimonianze più significative ai fini dell'indagine sono quelle rilasciate alla polizia dalla moglie di Lorusso, presenti all'esecuzione e salva per miracolo. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli investigatori, i sicari che erano con il volto coperto e vestiti di scuro hanno prima affiancato la Ford Fiesta su cui viaggiava Lorusso insieme con la moglie, poi hanno aperto il fuoco scaricando una pioggia di proiettili con un mitragliatore. I testimoni non sono stati in grado di indicare con certezza il modello e neppure parzialmente la targa del Mercedes. La vittima, 59 anni, sorvegliato speciale, aveva già scontato 16 anni di carcere per i reati di associazione per delinquere e traffico di droga. Ormai era fuori da ogni giro criminale, stava cercando un lavoro nonostante le difficoltà di reinserimento. Sul corpo di Nicola Lorusso è stata disposta l'autopsia. L'esame affidato al medico legale Alessandro Dell'Erba potrebbe essere già eseguito nelle prossime ore. Sono cominciate oggi nell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico le prime due autopsie sui corpi di nove delle vittime del Norman Atlantic trasportati a Bari subito dopo il ritrovamento. L'esame era stato rimandato di una settimana a causa di difetti di notifica nell'avviso di accertamento irripetibile ai due indagati greci, i rappresentanti della società Anec Lines. 15.000 capi di abbigliamento contraffatti sono stati donati in beneficenza dai militari della Guardia di Finanza, da alcuni enti caritatevoli di Molfetta, Terlizzi, Ruvo, Giovinazzo, Bisceglie e Trani. Gli abiti erano stati sequestrati una decina di anni fa a Giovinazzo nell'ambito di un'operazione che portò allo smantellamento di un centro di commercializzazione di articoli di abbigliamento con false etichettature made in Italy. Parliamo di politica settimana decisiva per il centrodestra in vista delle regionali. Giovedì l'incontro romano con Silvio Berlusconi che indicherà il nome del suo candidato. terremoto nella coalizione dopo che sabato è spuntato un nome alternativo a Francesco Schittulli, ovvero Nicola Giorgino, sindaco di Andria, che potrebbe ricevere l'investitura del Cavaliere. Oggi Schittulli ha riunito i partiti che sostengono la candidatura. Alle 15.30 lo ricordiamo, l'oncologo sarà negli studi di Telebari per dillo a Schittulli. Forza Italia contro Michele Emiliano per la gestione passata dei bilanci di Palazzo di Città. A inchiodare l'ex sindaco, secondo l'opposizione, sarebbe proprio la Corte dei Conti. Il servizio. Vere e proprie forzature nella scrittura dei bilanci che in questi anni avrebbero falsato la realtà dei fatti, altro che conti da Oscar. Forza Italia si scaglia contro l'ex sindaco Michele Emiliano mostrando carte alla mano la sentenza della Corte dei Conti del 6 novembre scorso che ha rilevato una serie di criticità e irregolarità sull'esercizio del 2011. Intanto la sua tardiva approvazione, una pratica, accusano i consiglieri di Forza Italia, reiterata e che potrebbe portare anche allo scioglimento dell'organo consigliare. E ancora la presenza di 7 milioni di euro di debiti esigibili e non pagati, l'accensione di 36 mutui per 18, dei quali non c'è stato alcun movimento e per cui sono stati pagati solo nel 2011 850 mila euro di interessi. Infine la scarsa riscossione delle entrate legate all'evasione dei tributi e una anomalia sui servizi per conto terzi. Sotto questa voce, infatti, scrive la Corte dei Conti, sono inserite per esempio le spese per le anticipazioni telefoniche degli amministratori cui il Comune non ha fornito le dovute giustificazioni richieste. Al sindaco Antone De Caro insiste il senatore Luigi D'Ambrosio Lettieri chiediamo di fare un'operazione verità sul reale lascito di Michele Emiliano. Ed è la Corte dei Conti che paventa con garbo naturalmente in una prosa molto elegante il rischio che si ricorra ad artifici contabili per rappresentare una verità che di fatto non esiste e quindi premi Oscar alla virtuosità di bilanci che assolutamente non solo sono immeritati ma servivano e servono a nascondere un'inquietante verità. Sono ripresi oggi i lavori sul primo isolato di Via Argiro dopo lo stop per le vacanze natalizie. Una pausa concordata con i commercianti che avevano chiesto di interrompere il cantiere per non intralciare lo shopping natalizio e l'avvio dei saldi. I lavori, ha spiegato l'assessore Giuseppe Galasso, si concluderanno nel più breve tempo possibile. Il basolato su due terzi dell'isolato è stato completato, resta da finire l'ultimo pezzo. Chiude l'ipermercato Oshan di Trigiano. In arrivo due attività commerciali, salvi i posti di lavoro. Le novità in questo servizio. Sono 119 i posti di lavoro a rischio dopo la chiusura di Oshan a Bariblu annunciata per il 28 febbraio prossimo. Dopo 5 anni di presenza nella galleria nei giorni scorsi la società ha comunicato ai sindacati l'accessazione delle attività motivo, crisi di fatturato e risultati economici in perdita. Mercoledì prossimo la catena francese incontrerà i sindacati per discutere della situazione. All'incontro del 15 gennaio sarà presente anche la Trisenter, proprietaria immobiliare di Bariblu che si sta attivando per riempire 7.000 metri quadri di area vendite lasciata scoperta dalla multinazionale francese. Sono in corso trattative con una nuova catena alimentare italiana specializzata nella gestione del prodotto fresco e con un'azienda di elettronica. Una buona notizia che potrebbe consentire il riassorbimento parziale o totale dei 119 dipendenti di Oshan per i quali è stata già avviata la procedura di licenziamento. Siamo pronti a lottare a fianco dei lavoratori, ha dichiarato Giuseppe Boccuzzi, sindacalista della CISL. L'obiettivo è il riassorbimento completo del personale nelle nuove società. Ci auguriamo che al più presto la società immobiliare Trisenter possa sostituire il gruppo Shan. L'impegno di Trisenter appunto è di trovare altri operatori. Si parla di un contatto quasi chiuso e ce lo auguriamo con un operatore del food. È chiaro però che c'è una necessità di arrivare ad un numero maggiore di operatori nel subentro perché solo così si potrebbe dare una speranza di piena rioccupabilità per tutti i 119 lavoratori interessati da questa grande vertenza. È stata intitolata a Vito Carofiglio poeta drammaturgo parese l'aria verde adiacente le antiche colonne militari sul lungomare Imperatore Augusto. La cerimonia questa mattina alla presenza dell'assessore alla toponomastica Angelo Tomasicchio e dei familiari. La scelta dell'amministrazione comunale di dedicare uno spazio pubblico all'intellettuale barese e un tributo all'impegno del professor Carofiglio nell'attività culturale di Bari negli anni 70. Passiamo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Cielo sereno, temperature comprese tra 3 e 12 gradi, venti forti, mare mosso. Vi ricordo come di consueto i nostri indirizzi internet www.telebari.it, radiobari.net e infochiocciola ilsegnodizorro.it E adesso vi lasciamo alle immagini dello spettacolo pirotecnico di sabato sera su lungomare di Bari organizzato dalla Camera di Commercio. A più tardi con informazione di Telebari. A più tardi con informazione di Telebari.it, radiobari.it, 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 radiobari.it. A più tardi con informazione di Telebari.it, radiobari.it, radiobari.it, radiobari.it. A più tardi con informazione di Telebari.it, radiobari.it, radiobari.it. A più tardi con informazione di Telebari.it, radiobari.it, 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 radiobari.it. Grazie a tutti.